Il piano ha chiaramente delle immediate scelte che noi dobbiamo compiere, sono scelte che sono anche di natura determinata, sono scelte forti che riguardano un territorio che è stato circoscritto, chiaramente l'assessore regionale ha indicato i comuni di quest'area che noi vogliamo provare a circoscrivere, perché l'obiettivo essenziale che dobbiamo conseguire nelle prossime ore è esattamente circoscrivere quest'area, lavorare perché il virus possa essere trattenuto dentro una specifica area geografica. Per questa ragione stiamo lavorando, ultimando in questi minuti, a una ordinanza che sarà un'ordinanza a doppia firma del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Lombardia, chiaramente con la condivisione totale del Commissario per l'emergenza coronavirus, che pure voglio ringraziare qui a fianco a me, Angelo Borrelli, che metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Grazie.